Le due delibere adottate ieri sera dall'amministrazione comunale riguardano il riassetto delle aziende partecipate dell'ente. Con la prima si procede sulla strada della fusione delle tre aziende della mobilità, ANM, Metronapoli e Napoli Park. Una strada che vedrà in seguito la creazione di una holding con tutte le partecipate. Lo spirito di questa tripla fusione è molteplice e riguarda numerosi aspetti, come la messa in sicurezza delle tre aziende, il desiderio di garantire servizi molto più efficienti nel trasporto pubblico, dare sicurezza ai lavoratori, ottimizzare i costi, avere il ritorno positivo immediato sul piano finanziario, tributario ed economico e creare un unico canale di comunicazione per il settore. Siamo partiti dal punto più difficile probabilmente, che è quello del comparto trasporto, perché parliamo chiaramente di società grosse per un servizio pubblico importante e anche fortemente oneroso. Il secondo provvedimento vede protagonista la Napoli Servizi ed è stato adottato per rispondere a tre problemi. Stabilire la natura dell'azienda, che è quello dell'interesse generale della collettività, rinnovare la convenzione per altri cinque anni ed infine conferirle la gestione del patrimonio, aggiungendolo alle sue competenze. Un settore il cui valore si stima in 3 miliardi di euro e che riguarda 36 mila famiglie. Inoltre sono state introdotte novità stringenti sul controllo pubblico, con procedure di indirizzo e rendicontazione. Questa definizione di interesse generale è una definizione nella quale mi sento di dire che è tale grazie alla determinazione del sindaco, sicuramente coglie il senso di quel lavoro che il Consiglio ha già svolto. La giornata è di svolta veramente storica, soprattutto per quanto riguarda la delibera di ieri sera sulla fusione delle tre aziende del trasporto, Metronapoli, ANM e Napoli Park. Questo va in direzione di una maggiore efficienza, minori costi, garanzia dei posti di lavoro, serenità per le lavoratrici e lavoratori, più servizi per i napoletani, per i turisti, iniezioni di denaro. Credo che sia l'azienda più importante a livello anche di innovazione, oltre che di operazione di piano economico-industriale nel Paese in questo momento. Quindi è una sfida e una giornata storica. Lo è anche per quello che abbiamo fatto per quella che sarà la nostra ammiraglia, Napoli Servizi, che abbiamo deciso dopo un dibattito approfondito tra di noi, ma non solo tra di noi, di mantenere la pubblica come società di interesse generale. Questa è anche una sfida per chi ritiene che si debba privatizzare tutto. Noi riteniamo che i servizi per le scuole, per la cultura, per i parchi, i giardini, il patrimonio immobiliare devono essere affidati in mani pubbliche. Una sfida che sarà difficile, complicata, ma noi abbiamo fiducia nei nostri lavoratori, nelle nostre lavoratrici, nella capacità del sindacato di raccogliere questa sfida, delle forze politiche, del Consiglio Comunale. Minori costi e più efficienza. C'è voluto coraggio, ancora una volta abbiamo mantenuto gli impegni. Abbiamo detto che lo facevamo, entro luglio anche Napoli Sociale, quindi tutte le società partecipate avranno solidità per il futuro, garanzia di posti lavoro, maggiore efficienza per la nostra città.